Gentili telespettatori, buona giornata. C'è una triangolazione e anche occhiambiamente si sottointende una richiesta specifica di aiuto, una triangolazione tra Meloni, Draghi e il Quirinale. Fratelli Italia auspica un impianto su cui lavorare per redigere la legge di bilancio 2022. Ma Palazzo Chigi fa sapere che non ci sono bozze al momento, i paletti dei pochi fondi da impegnare e le scadenze da rispettare. Draghi fa sapere che realmente non aveva preparato una bozza di finanziaria perché sarebbe stato il compito del prossimo governo. Ma il prossimo governo, per quanto Mattarella voglia accelerare il passaggio di consegne, le cose comunque vanno per le lunghe. Guardate, oggi è il 27, oggi è il 27, non so cosa sta facendo Mattarella, starà mangiando gli spaghetti col pomodoro, starà guardando la televisione, si sarà addormentato sul divano, non si sa, ma le consultazioni secondo me andavano programmate il giorno dopo. Il 26 si sanno i risultati, il 27 venite subito che vi mando a chiedere la fiducia, il 28 in Parlamento e io il 29 vi... insomma ci vorrebbe un certo tipo di velocità, anche perché più passa il tempo, più tardi il governo nuovo arriva in carica e peggio è. E allora mi viene il sospetto che sia tutto fatto per far andare a schiantare il nuovo governo che è manco nato entro dicembre. Sarò io che sono sospettoso, vedo sempre male nelle cose, però diciamo che ci azzecco molte volte. Ma Fratelli d'Italia auspica che Draghi gli passi una base su cui lavorare, come dire, passatemi un... è come dire, guarda, io non devo scrivere un libro, guarda, passatemi già degli argomenti in modo che io so... ecco, una roba del genere, no? Devo andare in vacanza, non so da che parte, voi preparatemi già a una sorta di piano, io vado... ecco, la Meloni vorrebbe trovare già un qualcosa su cui redigere il bilancio, la legge di bilancio. Ma appunto Draghi fa sapere che non aveva preparato niente. La transizione sarà una triangolazione perché nel passaggio di consegne tra governo Draghi e futuro governo Meloni avrà un ruolo anche il Quirinale. Per la prima volta nella storia repubblicana la staffetta Palazzo Chigia verrà nel pieno della sessione di bilancio. Peraltro nel bel mezzo di una situazione economico-finanziaria molto negativa, che preannuncia una stagnazione al limite della recessione. Per quanto al colle abbiamo intenzione di accelerare i tempi per le consultazioni, dice il Quirinale. Quindi hanno intenzione di accelerare ma non accelerano. Insomma, forse io sono troppo... una persona troppo organizzata di mio, quindi dico subito Mattarella che stai facendo? Stai mangiando la pasta? Io mangio la pasta! Stai cantando io mangio la pasta! Piuttosto che mangiare il brodino, guardare la televisione, guardare fuori dalla finestra, non ci sono più le mezze stagioni. Muoversi! Muoversi! Non bisogna dire abbiamo l'intenzione di accelerare. Bisogna accelerare, non avere l'intenzione. Perché allora mi prendi in giro. Ma non sarà possibile varare la prossima legge di stabilità entro il termine del 26 ottobre. Allora, bisogna presentare la legge di stabilità entro il 20 di ottobre. Cioè tra 22 giorni bisogna presentare la legge di bilancio. La prima seduta del Parlamento nuovo avverrà solo dopo? Il 13 di ottobre. Dopo! Dopo! E per avere un esecutivo nella pienezza delle sue funzioni bisogna attendere le elezioni dei presidenti delle Camere, la formazione del nuovo gabinetto, la fiducia dei deputati e dei senatori. Cioè la prima volta che il Parlamento si riunisce il 13 di ottobre ma si riunisce e c'è ancora il governo da formare perché si riunisce e deve poi dare la fiducia alla Meloni che Mattarella dice Meloni vada in Parlamento a chiedere la fiducia al Senato e al... e al... come cavolo si chiama? Alla Camera. Ma se il 13 si riunisce deve essere incaricato da Mattarella, deve andare nelle due camere, chiedere la fiducia, poi tornare da Mattarella che gli dice io ti nomino capo del governo, fammi vedere i ministri dove sono, non li vedo, io vi nomino a tutti qua. Passa il tempo perché ste robe non sono abituati a farle subito, no? Avete visto, no? C'è l'intenzione di accelerare i tempi. Dice muoviti, ho l'intenzione, muoviti, ho l'intenzione di accelerare i tempi, vabbè. Buonanotte con l'intenzione di accelerare i tempi. All'indomani del voto Draghi e Meloni non si sono parlati, finora la leader di Fratelli d'Italia ha curato direttamente le relazioni con Draghi, ma adesso dovrà allestire un team di transizione per gestire in prospettiva alla consegna dei dossier. Allora, io da quello che posso vedere da qua, a me sembra che la Meloni sia una persona molto organizzata, anche un particolare di come organizza casa sua, per esempio, l'estremo ordine tra le penne, tutte di un colore, allora voi direte ma cosa dice? Quando uno è organizzato di suo, io vi dico dimmi, fammi vedere dove lavori il tuo ufficio e casa tua e ti dirò che tipo di persona sei. Se sei una persona che in casa è estremamente organizzata, tutto messo per bene, tutto messo in ordine, una persona estremamente organizzata poi è anche organizzata nel lavoro. Dunque sono sicuro che la Meloni sta già, sta già portandosi avanti con tutte le cose che deve fare, avrà già chiamato tutti quelli che saranno i ministri per, appunto, per fare il passaggio di consegne e soprattutto il Ministero dell'Economia. Noi non sappiamo quale sarà il Ministro dell'Economia ma sono sicuro che la Meloni già con questo futuro ministro sta già, sta già vedendo che cosa fare il più velocemente possibile. Intanto è stato approntato un altro quinto decreto sugli aiuti e prima di vararlo il governo ha deciso di consultarla. Intanto un decreto di aiuti a Kiev sono tanti soldi che noi non abbiamo, realmente l'Italia aiuta ma l'Italia andrebbe aiutata. Non c'è niente da ridere, l'Italia andrebbe aiutata e invece l'Italia aiuta gli altri. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo sugli aiuti però è come una famiglia piena di debiti che cerca di aiutare un'altra famiglia. Lodevole però dove si trovano i soldi. Insomma vedremo quello che succederà perché la situazione economica è molto molto pesante. Arrivederci a tutti e grazie.